La quarta convention regionale delle categorie promossa da Confartigianato Veneto si è svolta il 7 giugno presso il Muvotella Mogliano. Il tema della convention Artigiani Digitali, la rivoluzione ICT, è stata l'importanza delle nuove tecnologie nel mondo artigiano per creare un continuum tra tradizione e innovazione. In Veneto attualmente si contano circa 4.500 aziende operanti in settori high-tech e queste sembrano più attrezzate rispetto alle aziende tradizionali per affrontare il futuro. Le nuove tecnologie hanno fatto prepotentemente la loro apparizione nella vita di tutti i giorni, cambiando abitudini quotidiane di chiunque e metodi di produzione delle aziende artigiane. Ne sono un esempio le stampanti 3D che trasformano un file in un oggetto tangibile, oppure la tecnologia delle cose, per cui si può visitare comodamente un negozio da casa, acquistare ciò che più piace e poi materialmente avere quanto visualizzato. La realtà ICT si sta sempre più affermando nel mondo artigiano, in cui software, internet e capacità di creazione unica e pregiata si sposano per offrire a clienti sempre più esigenti qualità, tecnologia e prodotti di massima accuratezza, come tutti i prodotti artigiani seguiti con attenzione dall'ideazione sino alla realizzazione. Alcune iniziative in merito hanno già preso vita, come Discovering Artigianato, il portale turistico di Confartigianato Imprese Veneto, la rete dei calzolai 2.0, la app Taxi, la certificazione degli edifici, la campagna contro l'abusivismo. Giuseppe Sbarchiero, Presidente della Confartigianato del Veneto. Presidente, siamo alla quarta convention delle categorie e c'è un salto di qualità, si guarda al futuro. Non è che si guardi al futuro, noi cerchiamo sempre di precedere il futuro, questo è l'obiettivo del mondo dell'artigianato e di Confartigianato in particolare, quindi l'incontro di oggi con le categorie è dire prendiamo spunto dai nostri artigiani di eccellenza che hanno già guardato oltre il futuro e cerchiamo di imitarli, coinvolgendo più imprese possibili e facendo capire che questo è il percorso migliore per garantirsi lavoro, per garantirsi continuità, a se stessi e la propria azienda, ma soprattutto per poter forse guadagnare qualcosa di più, che è la cosa più importante oggi. Presidente, manifatturiero, digitale, piccole imprese, questo è il trinomio di eccellenza adesso. Ci sarà anche la Regione Veneto, l'Elena Donazzana e l'assessore Coppola. Cosa può fare la Regione per queste imprese? Credo moltissimo perché la Regione sta investendo molto su quello che è il processo produttivo, sta investendo molto sull'aggregazione delle imprese, sta investendo molto sulla innovazione e la tecnologia. È un partner ideale per questo tipo di iniziative. Ascolti, il manifatturiero lo davano per morto, invece sembra che forse salverà l'Italia e soprattutto quello delle piccole imprese. Cosa ne pensa? Ma all'inizio degli anni 2000 il terziario e il finanziario sembrava avessero fatto scomparire tutti. Poi ci siamo resi conti che proprio il terziario e soprattutto il finanziario ha massacrato il mondo. Chi produce è ancora qua. Il compartigianato si è interrogata su come far affrontare a mercati in cambiamento, in un mondo, in trasformazione, alle proprie aziende la sfida. E una delle sfide è quella, dateci degli strumenti che siano proprio legati alle risorse umane, perché sono nuove competenze e anche a degli strumenti proprio materiali. Per cui io credo che la programmazione europea che abbiamo fatto d'intesa con la compartigianato andrà proprio in questa direzione, a dare risposte a quelle domande che la compartigianato ci ha posto. Lei ha detto anche che il Made in Italy va valorizzato. Lei pensa che la Regione Veneto abbia degli strumenti per fare questo? Indubbiamente. La prima è un tavolo sulla lotta alla contraffazione che abbiamo messo in campo, quel sistema camerale, ma radunando i tantissimi soggetti che oggi fanno controlli. Secondo, dare corrette informazioni al cittadino consumatore. Deve sentirsi responsabilizzato. Se sceglie una scarpa cinese, deve sapere che sta mettendo a serio rischio il posto di lavoro magari del suo amico, del suo vicino di casa, del sistema Italia. Terzo, il Made in Italy, soprattutto dopo un importante provvedimento della comunità europea, del Parlamento europeo, a scadere di mandato, ma almeno una roba buona l'hanno fatta, mi viene da dire, hanno messo la tracciabilità del Made in. Bene, il Made in Italy vale moltissimo. Si dice che valga 60 miliardi di contraffazione. Pensate cosa significherebbe riportare quei 60 miliardi per le nostre aziende. Ecco, queste sono le tre cose che il Veneto può fare. Christian Weller è il nuovo presidente dell'ICT di Confraggianato Imprese Veneto. Presidente, nuova categoria per un mestiere nuovo, però vecchio per quanto le riguarda, perché lei da molto tempo si occupa di innovazione tecnologica e di ICT nell'applicazione manifatturiera. Ci racconta un attimo la sua storia. Esatto, allora la categoria è assolutamente nuova perché è proprio di questi giorni. In verità il lavoro mio da più di 10 anni, ma che vedo da quando sono dentro di Confraggianato, è di realtà che erano già esistenti, costituite, ma non avevano una rappresentanza. Si parla di circa 4.500 imprese in Veneto, non tutte socie, quindi c'è anche la possibilità di coinvolgerle. E sono imprese che fino ad ora appartenevano a sistemi che non li rappresentava in pieno, non li rappresentavano nettamente. Quindi adesso siamo riusciti a costituirci, quindi abbiamo la possibilità di rappresentarle anche a livelli nazionali. Potete fargli anche delle iniziative e delle attività, perché da quello che io ho capito il vostro settore non ha iniziative sindacali, ma anche di informazione. Cioè c'è una carenza sull'aspetto della comunicazione per questo settore. Esatto. Ci sono delle attività sindacali che abbiamo in mente, però sostanzialmente noi faremo formazione interna, professionalizzante per i soci, ma anche formazione per le altre categorie di Confraggianato, perché magari anche fare dei progetti insieme di sviluppo, di innovazione che oggi sono il driver per la crescita. Presidente, la Confraggianato del Veneto ha portato su internet un portale che si chiama Discovering in Artigianato. Ce ne presenta un attimo le caratteristiche? Sì, è un tentativo e un'opportunità da parte del mondo dell'artigianato di poter cercare di prendere i vantaggi che il turismo può darci. Mettere in relazione il turista con le nostre botteghe artigiane è il tentativo che cerca di fare Discovering in Artigianato. Ed è una possibilità, come dicevo, enorme, perché il turista va in cerca di cose particolari, va in cerca dei manufatti artistici e noi siamo quelli che li facciamo. È un portale che dà anche la possibilità di vendere, vero? Sì, assolutamente. Nel senso che anche la possibilità di acquistare, anche una volta tornati in patria da parte del turista, è un'opportunità che noi cerchiamo di poter sfruttare a pieno. Presidente, state per approdare a un sogno, quello di realizzare una rete di imprese della calzaturiere, che nascono però a Calzolai, per vendere le scarpe in tutto il mondo su misura. Certo. Allora, è un sogno che si realizza dopo tre anni di percorso, iniziato con un percorso formativo, grazie al Confartigianato e al finanziamento del Fondo Sociale Europeo della Regione Veneto, abbiamo fatto questo percorso che ci ha portato a avere delle conoscenze che prima non avevamo. Da lì è nata un'idea di creare un'aggregazione, naturalmente come noi siamo artigiani abbiamo un po' di chiusura rispetto al nuovo, ma dopo un anno abbiamo partorito questa rete che finalmente si vedrà la luce la settimana prossima con la firma del notaio. Noi con questa operazione abbiamo intenzione di portare quella che è l'esperienza della calzatura italiana fatta a mano al 100% made in Italy, portarla in tutto il pianeta attraverso strumenti che ci danno la possibilità oggi con le nuove tecnologie di approdare in qualsiasi corner di tutto il pianeta appunto e presentare quello che è l'arte del saper fare italiano. Presidente, oggi a questa convention avete presentato un'iniziativa che in realtà ha un po' di tempo, l'app Taxi, che però vi proietta come categoria tra i pionieri delle applicazioni di internet, di questa internet delle cose eccetera, e una risposta che molto probabilmente ha prevenuto difficoltà che stavano venendo avanti e che quindi inizia ad avere oggi una visibilità maggiore di quello che avete avuto in questo periodo. Aver pensato negli anni scorsi, l'app oggi ci consente di andare a livello nazionale e anche oltre con un prodotto tecnologico, con un servizio che in quanto modo è avanzato. Da questo punto di vista l'aver pensato per tempo l'evolversi del nostro settore è stato vincente, con altrettanta preveggenza dobbiamo capire che i prossimi vent'anni nell'ambito della mobilità urbana provocheranno scenari incredibili a cui noi dobbiamo in qualche modo essere partecipi, perché cambierà il nostro lavoro come artigiani e cambierà anche il modo di come assegnare i servizi tramite Radio Taxi. Consapevo di questo dobbiamo costruire un futuro che vada oltre a quello che già conosciamo. I tuoi colleghi come li hai visti cambiati proprio nell'atteggiamento rispetto a queste nuove applicazioni? Le pressioni internazionali date da questi nuovi sistemi che stanno arrivando anche in Italia, che tra l'altro sfruttano la simmetria informativa cliente-vettore, li rende maggiormente consapevoli che bisogna cambiare, che bisogna trasformare, bisogna rinnovarci. Da questo punto di vista contiamo molto sui nostri artigiani più giovani che da questo punto di vista ci aiutano anche con delle idee innovative e ci danno degli stimoli nuovi per andare avanti. Presidente, com'è che una categoria degli edili che fanno case entrano nel mondo dell'ICT, delle nuove tecnologie? Perché questo è il futuro, effettivamente connubiare tradizione e tecnologia sarà proprio la nuova sfida, perché effettivamente, non logicamente tenendo sempre in considerazione la tradizione, portarla con il nuovo ITEC anche il fatto della trasmissione dati tramite il telefonino, non ci sono più i disegni cartacei, gli aggiornamenti sono velocissimi e poi anche in tempo reale io posso sapere tramite internet qualsiasi informazione di cui magari ho bisogno nell'istante nel cantiere, cioè questo significa ITEC portato alla tradizione, perché non sostituirà mai la tradizione veneta assolutamente, però servirà molto, servirà molto, il problema è farlo capire a chi vede nell'innovazione una scopa che elimina la tradizione, invece non deve essere così, interpretata così, anzi bisogna correre fianco a fianco, allora si arriverà. In America parlano dei stampanti 3D che fanno case? Sì, c'è un'affermazione veneta che dice una grandissima boiata ragazzi, una grandissima boiata, perché se voi avete visto i siti, avete visto lo spruzzatore di calcestruzzo, è vero, però se la telecamera si rigirasse e dovessi vedere l'impianto che c'è dietro è uguale o anche più grande dell'edificio che stanno costruendo, quindi andrà benissimo su costruzioni per fabbricate in sito stabile, ma assolutamente improponibile all'esterno, assolutamente, questo sì. Presidente, avete presentato una campagna contro l'abusivismo per la categoria del benessere che girerà anche sui social? Sì, abbiamo Facebook che verrà, credo, aggiornato per questa campagna pubblicitaria contro l'abusivismo perché i problemi sono grandi, soprattutto perché l'abusivo usa sostanze tossiche, addirittura calcerogene e quindi sono dannose alla salute. E vi aspettate un risultato migliore rispetto alle classiche campagne, diciamo, con i cartelloni per strada attraverso questi nuovi strumenti? Io spero proprio di sì perché Facebook credo sia uno dei social network più visti per cui l'informazione gira velocemente, quello che io passo per strada una volta alla settimana Facebook invece ce l'ho ogni secondo, quindi mi informo e nell'informazione io spero che ci sia anche la consapevolezza di tutti noi di vedere la realtà delle cose perché l'abusivo non ha un'identificazione, quello che noi abbiamo, una partita IVA, abbiamo delle schede tecniche che ci permettono di essere controllate dai nostri puls di riferimento.